Per affrontare il tema del rischio legato agli incendi boschivi è utile fare un breve accenno al rapporto che intercorre tra clima ed incendi boschivi. Il clima gioca sicuramente un ruolo fondamentale nell'occorrenza di questo fenomeno, tuttavia è importante sottolineare che il fattore primario è rappresentato dalla presenza diffusa di vegetazione estremamente infiammabile, dall'erba secca, agli arbusti, della macchia fino alle foreste di conifera mediterranea ed eucalipti. La presenza di questo tipo di vegetazione è il risultato di secoli di utilizzo del territorio, dove la foresta nativa è stata eliminata per dare spazio al pascolo o alle culture agrarie. Queste aree, in quasi totale abbandono, evolvono verso ecosistemi che dipendono principalmente dal tipo di suolo, dalle condizioni climatiche locali e dalla frequenza degli incendi stessi. In alcuni casi questi paesaggi sono stati progettati negli ultimi decenni con la finalità di consolidare i versanti o per finalità produttive, ma in assenza di una loro continua gestione sono diventati una minaccia nel caso in cui il fuoco li raggiunga per una qualsiasi ragione. Tornando al clima, questi paesaggi evolvono in funzione delle precipitazioni che favoriscono la crescita e l'accumulo di nuova vegetazione e dalla temperatura che determina l'alternarsi delle fasi fenologiche, trasformando parte della vegetazione in combustibile immediatamente disponibile all'accensione. Pensate ad un prato naturale, non sfalciato e non pascolato, che a un certo punto diventa completamente secco. In questo caso sono le condizioni meteorologiche locali che determinano il contenuto di umidità di quei combustibili e la loro infiammabilità. Le precipitazioni stagionali e le temperature medie contribuiscono quindi a determinare l'accumulo di vegetazione infiammabile, che quando diffuso su ampie superfici aumenta notevolmente la probabilità che un innesco possa generare un fuoco. Stagioni caratterizzate da periodi prolungati di assenza di precipitazione sono solitamente gli anni in cui si registra il maggior numero di incendi. Tuttavia, spesso, questi fuochi possono essere controllati con le sempre migliori strategie di attacco al fuoco. ma una piccola parte di essi può degenerare in incendi incontrollabili. Sebbene la maggior parte di noi attribuisce il rischio incendi al grande caldo, il fattore che in assoluto determina le condizioni di pericolo maggiore è il basso contenuto di umidità nell'aria, che determina il pressoché totale dissecamento dei combustibili. Queste condizioni sono spesso legate all'instabilità atmosferica e quindi accompagnate nei casi peggiori da forte vento. Un esempio recente è rappresentato dagli incendi di Palermo dello scorso luglio o dall'incendio più grande mai registrato nel Mediterraneo, accaduto nella regione di Evros, in Grecia, con i suoi quasi 100.000 ettari, che dal 19 agosto ha richiesto l'intervento del meccanismo europeo, impegnato per settimane nella gestione dell'evento. È quindi necessario saper riconoscere e prevedere quando e dove queste condizioni si possono verificare. La concomitanza di vegetazione infiammabile e queste condizioni meteorologiche locali sono la principale causa delle grandi emergenze legate agli incendi boschivi, sia nella stagione estiva che nella stagione invernale. Purtroppo il cambiamento climatico sembra amplificare sia le stagioni secche e sempre più calde, sia i fenomeni meteorologici locali che determinano la propagazione di incendi incontrollabili. A questo punto entriamo nel vivo del rischio, definendo con precisione cosa si intende per incendio boschivo. Secondo l'articolo 2 della legge 4 sugli incendi boschivi, la legge 353 del 2000, è un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arbore, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascome limitrofi a dette aree. Ma è così facile che avvenga un incendio? In realtà no. Gli incendi di origine naturale, per esempio quelli scaturiti da fulmi in eruzioni vulcaniche, rappresentano appena l'1%, il restante 99% a origine colposa o involontaria, quando è causato da comportamenti dell'uomo irresponsabili e imprudenti, spesso in violazioni di norme e comportamenti, come per esempio attività agricole e forestali, abbandono di mozziconi di sigarette e fiammiferi, attività ricreative e turistiche, oppure di origine dolosa, quando è provocato volontariamente. In ogni caso è necessario che siano presenti dei fattori che predispongano gli incendi, quindi un insieme di aspetti che favoriscono l'innesco di un incendio e la propagazione del fuoco. Per esempio le caratteristiche della vegetazione, la presenza di specie più o meno infiammabili e combustibili, contenuto d'acqua, stato di manutenzione del bosco. Oppure condizioni climatiche, i fattori che hanno maggiore influenza sugli incendi sono l'umidità relativa dell'aria, il vento e la temperatura. E infine la morfologia del terreno, la morfologia del terreno influisce sugli incendi, soprattutto per esempio con la pendenza, nei terreni in pendenza aumenta la velocità di propagazione e l'esposizione. I versanti a sud-ovest sono più esposti all'azione del sole e quindi meno umidi. Il pericolo maggiore, quando si parla di incendi boschivi, è quando questi lambiscono aree limitrofe ad abitazioni o ad altre strutture antropiche. In questo caso parliamo di incendi di interfaccia, secondo l'articolo 5,1 della legge 155 del 2021. Il nostro territorio, insieme agli altri stati presenti nel Mediterraneo, ha tutti i presupposti per essere un paese a grande rischio di incendi boschivi e di interfaccia. L'abbandono delle attività rurali e la continua estensione delle aree urbane hanno creato in alcuni casi una totale continuità fra la vegetazione e le aree urbanizzate. Incendi che si originano in aree remote possono velocemente propagare verso centri urbani, case sparse, impedire la visibilità sulle reti stradali interrompendo il traffico e, nel peggiore dei casi, causare vittime. Negli anni più recenti abbiamo assistito anche ad incendi che si sono originati all'interno delle aree urbane stesse. Questo mette bene in evidenza come gli estremi climatici richiedono necessariamente di pensare a questo rischio con maggiore attenzione. Ma cosa si può fare? Dobbiamo parlare sia dell'attività di competenza delle istituzioni che di quelle delegate alla popolazione. La competenza per gli incendi boschivi e di interfaccia, sempre secondo la legge 353 del 2000, è delle regioni a cui spettano le attività di previsione e prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione delle emergenze e del loro superamento. Le possiamo sintetizzare brevemente così. L'attività di previsione consiste nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, nello studio delle cause determinanti e di fattori predisponenti l'incendio, nonché degli indici di pericolosità. Quest'ultimi, utilizzati per la predisposizione di un bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi, vengono utilizzati per individuare i livelli di pericolosità sul territorio. Con le previsioni del bollettino, cosa si può fare a questo punto? Si costruisce un sistema di allertamento sul territorio, si informano tutti gli attori coinvolti della situazione prevista, i sindaci, il personale regionale, il volontariato e si attuano le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e in caso di incendio di spegnimento. Tutte queste attività rappresentano la lotta attiva. Nel dettaglio, ogni regione per le attività di lotta attiva si avvale del personale regionale, del volontariato e dei vigili del fuoco, dei mezzi a terra e aerei. In caso di incendio, le prime a intervenire sono le squadre di terra coordinate dalle regioni. Se il fuoco poi è troppo esteso e il lavoro delle squadre a terra non è sufficiente, chi dirige le operazioni di spegnimento, il DOS, può chiedere l'intervento dei mezzi aerei in dotazione alla regione, di solito agli elicotteri. Se questi non sono a loro volta sufficienti, la regione, attraverso le SOP, che sono le sale operative unificate permanenti o i centri operativi regionali, richiede al Dipartimento, quindi al COAO, che è il Centro Operativo Aereo Unificato, l'intervento della flotta aerea dello Stato. Per la campagna estiva antincendio boschivo 2023, la flotta aerea di Stato, nel periodo di massima attenzione, che va dal 1 luglio al 31 agosto 2023, è composta da 14 violi Canada CL415, più un aggiuntivo, due Fireboss e da 5 elicotteri Ericsson S-64F. A questi mezzi si aggiungono ulteriori 13 elicotteri del comparto difesa, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'Arma dei Carabinieri. Tra i canader citati, impiegati su tutto il territorio nazionale, sono presenti anche dei veicoli cofinanziati dalla Commissione Europea. Ogni Stato membro può utilizzare questi mezzi, che entrano a far parte della propria flotta aerea, sia sul proprio territorio che inviarli, in caso di richiesta, in altri paesi. Per esempio, durante la stagione estiva 2023, intorno alla metà di luglio, il Dipartimento ha supportato l'attività di spegnimento aereo in Grecia, inviando due canader. La Grecia è una delle nazioni che maggiormente risente del rischio di incendi boschivi. Entrando nel dettaglio della stagione B estiva 2023, il cui termine è il 30 settembre, possiamo iniziare a tirare le somme. Le abbondante precipitazioni, che hanno caratterizzato il periodo tardo-primaverile, hanno portato la vegetazione in condizioni non particolarmente favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi, con un numero di incendi e superfici percorse dal fuoco sensibilmente al di sotto delle medie di riferimento del periodo 2006-2022. La situazione è cambiata andando a considerare i dati fino al 29 luglio 2023, dove si è vista un'inversione di tendenza con un numero di incendi leggermente al di sopra della media, 162 contro 128, con una superficie bruciata stimata di oltre 53 mila ettari a fronte di una media dello stesso periodo di riferimento di poco più di 19 mila. Se parliamo del numero di richieste di concorso aereo arrivata al COAU, ad oggi ci troviamo a 599 richieste contro 1.001 del 2022, quindi possiamo dire un 40% in meno. Queste sono le azioni che riguardano l'intero sistema, dalla previsione alla lotta attiva, ma c'è un'attività che riveste maggiormente importanza, quella della prevenzione. L'attività di prevenzione consiste nel mettere in campo tutte le azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco di incendio, ma anche interventi finalizzati a realizzare territori meno vulnerabili al fuoco. Possiamo parlare delle azioni di competenza specifica delle regioni destinate a ridurre il potenziale innesco di incendio, come interventi specifici nell'ambito della selvicoltura e della manutenzione del territorio, dalla riduzione selettiva della biomassa particolarmente combustibile all'ottenimento di soprassuoli forestali misti e ben strutturati, ma anche allo sfoltimento ed eliminazione di arbusti e dello strato erbaceo tramite il pascolo, lo sfalcio o il decespugliamento e la ripulitura delle scarpate dei margini stradali e ferroviari, in alcuni casi anche con l'uso del fuoco, se progettato e realizzato con competenza. Ricordiamo che una grande percentuale del territorio italiano è di proprietà privata. Sta quindi ad ognuno di noi identificare e segnalare situazioni di pericolo e fare tutto il possibile affinché vengano eseguiti interventi strutturali di riduzione del rischio, prima che l'innesco di un fuoco in condizioni meteorologiche estreme possa causare enormi danni alle persone e all'ambiente. Fra le azioni di prevenzione a breve termine, sulla base dei modelli di previsione, può essere estremamente efficace potenziare il monitoraggio del territorio e la comunicazione del rischio, dove e quando è necessario e allo stesso tempo potenziare e preparare un adeguato sistema di contrasto pronta ad intervenire immediatamente in seguito a una segnalazione. Quello che anche ora stiamo facendo è un'attività di prevenzione, l'attività di informazione e sensibilizzazione del rischio diversificata in funzione del tipo di utente. Le campagne di comunicazione sono fondamentali per sensibilizzare ed educare i cittadini al problema degli incendi boschivi e alla salvaguardia del bosco e per far conoscere i divieti, le limitazioni, da osservare le buone norme di comportamento da tenere nei boschi per evitare l'innesco di incendi e le misure di autoprotezione da adottare in caso di incendio. Ogni cittadino deve essere protagonista della prevenzione, le sue scelte, i suoi comportamenti possono fare la differenza. Un'attenzione particolare vale volta l'informazione nelle scuole, organizzando incontri tra studenti e operatori del settore. È importante che i giovani abbiano consapevolezza del proprio ruolo nel sistema di protezione civile. Un suggerimento che posso dare è quello di riperire il piano di protezione civile del proprio comune e di studiarlo in classe. Ogni piano contiene una parte generale in cui sono raccolte tutte le informazioni disponibili sulle caratteristiche del territorio. Una parte che riguarda i lineamenti della pianificazione, quindi gli obiettivi da conseguire per dare un'adeguata risposta di protezione civile ad un qualsiasi situazione emergenziale e le competenze dei vari operatori. La terza parte è il modello di intervento che assegna le responsabilità decisionari ai vari livelli di comando e controllo. Utilizza le risorse in maniera razionale, definisce un sistema di comunicazione che consente uno scambio costante di informazioni. Grazie. Grazie. Grazie.